La Convenzione delle Alpi si è impegnata molto ultimamente per riflettere sul futuro del contesto alpino nel suo contesto sovranazionale. Se devo citare alcuni spunti che immagino possano essere utili anche in questo contesto, mi viene da citare il grande lavoro fatto in tema di Green Economy negli ultimi anni, un gruppo di lavoro internazionale che sta preparando un vero e proprio programma di azione per la Green Economy, che quindi guarda a uno sviluppo intelligente e rapido di territori come quelli montani spesso considerati marginali, attraverso un modello di sviluppo ad hoc, questo è sicuramente uno degli elementi più interessanti. L'altro elemento che citerei è la grande enfasi che in ambito alpino, giustamente, per chiare ragioni scientifiche, si dà al tema della resilienza e dei cambiamenti climatici. Esiste un impegno internazionale che fra l'altro l'Italia ha preso molto seriamente, sull'attuazione di misure per l'adattamento locale ai cambiamenti climatici, che rendano i territori più resilienti di fronte a queste minacce e che quindi li rendano anche più interessanti come luoghi insediativi, come luoghi dove fare impresa, come luoghi dove far crescere il tessuto sociale e il tessuto economico. In questa direzione io sono convinto che i risultati conseguiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi possano essere condivisi nell'ambito di questo progetto, nell'ambito di altri progetti, proprio al fine di fare sistema, di creare una rete tra tutte le persone e le istituzioni che sono a diverso titolo impegnate nella tutela e soprattutto nello sviluppo sostenibile del territorio alpino, italiano e non. Perfetto.